Un piccolo bosco al centro di Treviso che nasce da un'iniziativa promossa dal Festival Biblico. In questa piazza abbiamo deciso di ricreare non tanto il Giardino dell'Eden ma un bosco, un bosco costituito di tutte piante tipiche del nostro territorio che può essere ricreato in zone, forse non nel centro della città ma certamente anche all'interno, all'intorno della città e tutte queste piante più piccole, 1300, sono disponibili per i cittadini. Un bosco che ancora non c'è il titolo dell'installazione, più di 1300 le piante presenti in piazza. Sono tutte piante da piantumazione immediata di bosco, quindi di alta metratura e quindi vanno piantate in giardino. Quasi una provocazione, quella del piccolo bosco, per porre l'attenzione su come sia importante la presenza del verde pubblico, proprio nel momento in cui si discute di rendere il centro e piazza Duomo un'area pedonale.